Io sono Mauro, ho 44 anni, abito al paese, da due anni lavoro in solco, sempre fatto diciamo elettricista, stavo male perché mi davano un carico di responsabilità e non riuscivo a reggerli. Con l'aiuto degli altri e con la forza di volontà, se ci credi veramente e vuoi stare bene, puoi uscire da sto vortice che ti porta sempre più in basso. Grazie.